Dietro il Ponte Buriano c'è uno studio scientifico severo condotto con i criteri scientifici più aggiornati da Carlo Starnazzi, approvato dai più esperti leonardisti di mezzo mondo e che ancora si venga a tirar fuori altre storie è veramente... non so se il riso o la pietà prevale, dice Leopardi. Non ci stanno a Ponte Buriano a farsi dire ancora una volta che quello che è alle nostre spalle non è il Ponte della Gioconda. A sostenere che il ponte sullo sfondo della Monna Lisa è Ponte Romito nel comune di Laterina e non Ponte Buriano che si trova nel comune di Arezzo, è una ricerca coordinata e presentata dallo storico Silvano Vinceti. La ricostruzione virtuale del ponte, sostiene lo studioso, realizzata in base alla larghezza dell'Arno nel tratto in cui si trova il Ponte Romito, evidenzia una forte similitudine con il ponte presente nel ritratto. Lo stesso si può affermare per la forma e la grandezza dei quattro archi. Su Ponte Buriano ci sono invece gli studi di Carlo Starnazzi e a suo tempo avvalorati dal soprintendente ai beni artistici e storici di Firenze, Paolucci, da Alessandro Vezzosi, direttore del Museo Ideale di Vinci, da Martin Kemp del Dipartimento di Storia dell'Arte dell'Università di Oxford, fino al direttore della National Gallery di New York. Carlo Petretti, perché è il numero uno nel tempo e nel mondo, direttore dell'Ammer Center dell'Università della California. Fino all'ultimo momento è stato poi, da quando hanno fatto il simposio internazionale di due giorni, c'era Petretti, Kempe, poi Brown, i maggiori studiosi di Leonardo, hanno convenuto che lo studio di Starnazzi era uno studio documentato, aveva parecchi certezze. I rostri che ci sono qui sono più che sufficienti, perché è stato dimostrato da fior di studiosi di livello internazionale che questi rostri sono esattamente la ragione per cui il ponte sta su e sono riprodotti nel ponte della Gioconda. Io credo che il ponte Buriano non lo possa scalzare nessuno con gli studi e le pezze d'appoggio che hanno dietro le spalle.